Noi siamo nati 30 anni fa con un'associazione culturale che ha l'obiettivo di presentare film, soprattutto culturali, non solo a Bolzano ma anche in altre località dell'Alto Arce. Noi nel 2001 avevamo la possibilità di ampliare il nostro piccolo cinema che avevamo con una sala sola prendendo in gestione anche il vecchio glorioso Cinema Capital di Bolzano e da lì con tre sale. Ovviamente è stato un grande arricchimento di offerta cinematografica per la città di Bolzano.